I principi che informano la nostra Costituzione e la Carta dei diritti universali dell'uomo sono la radicale negazione dell'universo che ha portato ad Auschwitz. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno della memoria nella cerimonia al Quirinale. Principi che oggi, ha giunto il Capo dello Stato, vediamo minacciati nel mondo da sanguinose guerre di aggressione, da repressioni ottuse ed esecuzioni sommarie, dal riemervere in modo preoccupante dell'antisemitismo, dell'intolleranza, del razzismo e del negazionismo, che del razzismo è la forma più subdola e insidiosa. Senza memoria non c'è giustizia. Il valore della memoria non si esprime soltanto nel ricordo, doveroso e partecipe delle vittime e delle disumane sofferenze loro inflitte, ma è espresso nell'impegno che alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli uomini liberi e gli stati democratici prestano sulle cenere di Auschwitz per dire mai più. Anche Papa Francesco in un tweet ha ricordato il giorno della memoria, sottolineando come non può esserci fraternità senza aver prima dissipato le radici di odio e di violenza che hanno alimentato l'orrore dell'olocausto. Nel giorno della memoria delle vittime dell'olocausto, il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Ucraina di crimini neonazisti. In un telegramma riportato dall'agenzia russa Riano Vosti si legge «Dimenticare le lezioni della storia porta alla ripetizione di terribili tragedie. Ne sono prova i crimini contro i civili, la pulizia etnica, le azioni punitive organizzate dai neonazisti in Ucraina. E' questo male, dice Putin, che i nostri soldati stanno combattendo con coraggio fianco a fianco». Dal canto suo il presidente ucraino Zelensky, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Telegram, nell'anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, ribadisce la volontà di combattere per salvare coloro che l'odio cerca di distruggere. Intanto gli osservatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica hanno riferito di potenti esplosioni vicino alla centrale nucleare di Zaporizhia, occupata dai russi durante il massiccio attacco missilistico sferrato ieri dalle forze di Mosca contro l'Ucraina. Potrebbe essere stata all'alta velocità a causare l'incidente la notte scorta alle porte di Roma, in cui hanno perso la vita cinque giovani fra i 17 e i 22 anni, dopo che l'auto su cui viaggiavano una Fiat 500 si è ribaltata su via Nomentana, dopo aver colpito prima un palo della luce e poi un albero. C'era anche una sesta persona a bordo che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. La procura di Tivoli ha avviato un fascicolo di indagini al momento contro i gnoti. I debiti delle famiglie italiane nel 2021 sono aumentati del 3,7%, superando la soglia dei mille miliardi. È quanto emerge dal dossier di Banca Italia sulla ricchezza dei settori istituzionali diffuso con l'Istat, secondo il quale si è osservato in particolare un incremento della componente prestiti. Latino al liceo classico, matematica allo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo, amministrazione, finanza e marketing, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. Sono alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della maturità 2023 in base al decreto firmato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Dopo tre anni scolastici in cui l'esame di Stato ha visto rilevanti modifiche dovute all'emergenza epidemiologica, l'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione quest'anno torna a svolgersi con una prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà il 21 giugno. Una seconda prova scritta riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio orale.